Ciao, se sei un imprenditore o un professionista e hai appena ricevuto un invito a comparire o un avviso di accertamento da parte di Agenzia delle Entrate, questo video fa per te. Purtroppo Agenzia delle Entrate ha appena ricominciato le notifiche di questi atti e a brevissimo ci saranno anche quelli di Agenzia delle Entrate Discussione, la Ex Equitalia. È un periodo davvero complicato ma voglio darti una buona notizia. È possibile gestire, fin anche a risolvere, questi atti, avviso di accertamento ed invito a comparire. Mi raccomando, guarda questo video perché insieme potremo immediatamente comprendere come ottenere uno sconto immediato di anche il 30% sulle cifre che devi allo Stato. Sono Carlo Carmine, founder del gruppo CFC, menzionato da Forbes tra i primi 100 studi legali in Italia ed anche autore del libro Best Seller su Amazon, Liberati da Equitalia. Mi raccomando, approfondisci in questo video perché davvero potrai continuare a dedicarti alla tua attività, alla tua azienda, sapendo che c'è qualcuno che da oltre 16 anni si occupa comunque di questa materia e che potrà affiancarti per gestire e risolvere con l'Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Discussione.